Se, se, quando scendo nel villaggio fratello chiamami il pecca Perché sporco tutto poi di nuovo in caserma Ue, mala, ue, mala, ue, elezioni Manca poco dunque ecco le istruzioni Si va a votare il Parlamento europeo Che è come quello italiano ma è europeo Che al posto del Senato c'è il Consiglio dell'Unione Dove si siede un ministro di ogni nazione La Camera? 751 seggi dove siederanno pure quelli che tu eleggi Deputati provenienti da tutti gli stati membri Quelli che per un lustro emaneranno leggi Partiti? Ne arrivano più di cento Si uniscono fra loro secondo l'orientamento Al momento sono sette le alleanze in Parlamento Ma c'è chi non fa alleanze Insomma chi? Il Movimento? Il centrosinistra va nel PSE Lo trovi anche sul simbolo PD Ora sai perché? Il centrodestra va nel PPE Casini, Silvio e Alpano sono lì tutti e tre L'altra Europa con Sipras è Il gruppo di sinistra radicale dove c'è Se il freedom and democracy è la lista Anti-europeista Con la Lega e con Marine Le Pen Votare è dovere e diritto Dovere di riscatto a chi è morto per il diritto Diritto di portare al potere chi di dovere E se non voti risparmia le lamentele Poi? In Rampadopa L'Italia è nell'Europa Generazione Erasmus All'estero che scopa Il 25 maggio vi ricordo che si vota E se volete approfondire Vi metto due link in nota Ciao Grazie a tutti